Siamo in Piazza Duomo a Pavia e siamo in compagnia di Paul Bakolo Ngoi, un personaggio molto conosciuto, molto apprezzato e molto amato in quel di Pavia. Nella sua vita ha fatto tantissimo, ha scritto dei libri, lavora per il turismo a Pavia, quindi è impiegato nell'ente comunale. Ma al di là di questo lui ha un'associazione in Africa che si occupa di bambini e ha anche dei progetti in divenire legati alla pubblicazione di un libro di cui adesso ci parla. Grazie Lara, volevo giustamente dire a questo proposito che uno dei progetti che sto portando avanti da un anno a questa parte, ma in realtà il progetto è molto vecchio, è quello di sostenere questa associazione, questa fondazione che si occupa dei bambini che non hanno le possibilità di andare a scuola. Noi cosa facciamo? Noi organizziamo la prima cosa, organizziamo il zainetto della scuola. Vuol dire che all'inizio dell'anno scolastico cerchiamo di mettere dentro a questo zainetto tutto quello che può servire poi al ragazzo per affrontare la scuola. Naturalmente noi aiutiamo anche le famiglie, ma soprattutto le mamme, a diventare indipendente. Cosa vuol dire diventare indipendente? Vuol dire che diamo le possibilità alle mamme di svolgere un'attività di cui il ricavato viene suddiviso tra la famiglia e l'associazione, in modo tale che queste mamme possano sostenere non solo la famiglia, ma anche il ragazzo fino alla fine dei suoi studi. Questo è una delle cose sul quale stiamo veramente lavorando. Uno dei più grandi progetti di questa associazione è quello di aprire una scuola nel villaggio di mio nonno. Il villaggio si chiama Mbandaka e si trova nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi io direi, per tutti quelli che sono interessati a conoscere i dettagli di questi progetti, per tutti coloro che vorrebbero venire magari con me in Africa, perché no? Il mio indirizzo email è E proprio per parlare di questo villaggio, io ho in progetto, a breve, uscirà il mio libro che si intitola Nonno, raccontami una favola. E quindi vi invito anche ad attendere l'uscita di questo libro che vi potrà portare in un viaggio in una terra che per me è favolosa perché si trova in mezzo al bosco, sulle rive del fiume Congo. Di qui ne parleremo in una prossima puntata. Grazie